Jenny e Tony di Temptation Island la verità dietro le critiche La storia di Jenny e Tony ha continuato a far parlare di sé anche dopo la conclusione di Temptation Island. I due, insieme a Siria e Matteo, sono stati le uniche coppie a lasciare il programma insieme, sorprendendo il pubblico che non si aspettava un lieto fine per loro. Un mese dopo la fine del reality, i due siciliani hanno confermato davanti alle telecamere di Witty TV che la loro relazione continua a gonfie vele. Tony ha dichiarato di essere cambiato, affermando che Mr. Hyde è andato in pensione, mentre Jenny ha raccontato di sentirsi finalmente libera di vivere senza l'ansia costante della gelosia del fidanzato. I cambiamenti ci sono stati, ha iniziato a saper gestire la gelosia. Sono libera di esprimermi, vestirmi come mi va, lui non dice più nulla, ha detto Jenny. Nonostante le sue dichiarazioni, Jenny è stata travolta dalle critiche dopo la fine del programma. Durante il suo soggiorno in Sardegna, si era lamentata della vita monacale imposta da Tony. Aveva persino annunciato di aver prenotato un viaggio con le amiche, lamentando che a volte Tony spariva, forse per darle libertà, ma facendo pensare che andasse a trovare un amico. Tuttavia, gli utenti dei social media hanno notato un'incoerenza tra i suoi racconti e la realtà mostrata su Instagram. I post di Jenny, anche quelli più vecchi, mostrano una vita piena di viaggi in Europa, divertimento e look di lusso, contraddicendo i suoi sfoghi a Temptation Island. Il pubblico si è scatenato nei commenti sotto le sue foto, mica per dire, ma non mi sembra che sia esattamente come raccontava lei. Di vestirsi sexy si vestiva, non mi pare andasse in giro con il burka. E ancora, hai raccontato un sacco di balle solo per apparire in TV, per fortuna non lo lasciava vestirsi così, posso capire quali sono i vestiti che non ti faceva indossare, non mi sembra che non ti faceva mettere scollata, hai ingannato tutti. Punto il caso di Jenny ha sollevato un polverone, mettendo in discussione la veridicità delle sue dichiarazioni e suscitando una forte reazione da parte dei fan del programma. Resta da vedere come si evolverà la situazione e se Jenny riuscirà a riconquistare la fiducia del pubblico.